Salve a tutti! Iniziamo oggi un nuovo progetto che riguarderà la realizzazione di un circuito di sicurezza in tensione. Questo qui altro non è che il gemello del circuito che abbiamo già costruito in precedenza, ovvero quello di sicurezza in corrente, soltanto che questo, come dice il nome, invece di scattare quando viene superato un certo valore di corrente nel circuito, questo qui interviene quando viene superato un certo valore di tensione. E com'è che funziona? Come il dispositivo di sicurezza in corrente abbiamo qui la sorgente di alimentazione, qui il dispositivo o il prototipo che sto testando e qui il circuito di sicurezza in tensione, quindi viene messo su uno dei due rami di alimentazione in modo da staccarla nel caso in cui succedesse un evento imprevisto, quindi nel caso in cui la tensione dovesse arrivare a valori troppo elevati. Quindi attraverso un sensore che va a misurare la tensione di alimentazione, lui riesce a sentire quando questo valore supera quello di set point e quindi va ad aprire la maglia del circuito. Le domande che sorgono guardando questo schema blocchi sono principalmente due. La prima è perché la tensione di alimentazione dovrebbe superare un determinato valore, nel senso se io vado ad alimentare il circuito con una tensione fissa di 24 volt, perché questa tensione dovrebbe aumentare? In realtà può succedere che durante il test del dispositivo questo possa avere un comportamento anormale e creare dei transitori sulla linea di alimentazione che superano il valore impostato, quindi per esempio di 24 volt e che quindi potrebbero creare dei danni. Ed è per questo motivo che appunto è necessario inserire un circuito di sicurezza in tensione in modo da rilevare questi transitori e prontamente andare a staccare l'alimentazione. La seconda domanda è perché ho deciso di realizzare il circuito di sicurezza in tensione in questa configurazione, ovvero due porte dedicate al sensing mentre due porte dedicate all'interruzione dell'alimentazione. Questo perché in questo modo è possibile posizionare questo circuito di sicurezza in qualsiasi punto del circuito. Infatti per esempio sarebbe possibile mettere i sensori sulla linea di alimentazione primaria e magari l'interruzione del circuito su una parte specifica del prototipo che sto testando, oppure viceversa mettere l'interruzione sulla linea primaria e il sensing di tensione su un punto qualsiasi del dispositivo che sto testando. Per quanto riguarda le protezioni principali che offre questo dispositivo, a differenza del suo gemello, questo ne offre solo una. Quindi banalmente, come appena spiegato, ciò che fa è proteggere il circuito da eventuali sovrattenzioni che possono capitare. Le sue caratteristiche principali sono che potrà effettuare il sensing di una tensione di massimo 500 volt e potrà far passare nella sua linea di alimentazione una corrente massima di 10 ampere. Mentre per quanto riguarda il tempo di azione, questo sarà all'incirca di 20 40 millisecondi. Infatti come attivo, quindi come interruzione della linea di alimentazione, questa volta sarà utilizzato un relè. E questo principalmente per due motivi. Uno perché per poter mettere le linee di sensing in qualsiasi parte del circuito è necessario che queste due porte siano isolate con quest'altre due porte. Quindi per far questo o bisogna alimentare il circuito con due alimentatori isolati differenti oppure fare in modo che questa linea di interruzione di alimentazione sia appunto isolata con un interruttore magnetico che nello specifico è appunto un relè. secondo motivo è che questo circuito non ha bisogno di un tempo di azione molto piccolo. Infatti mentre col circuito di sicurezza in corrente avevamo misurato che il tempo di azione era di 20 microsecondi, qui invece essendo che stiamo parlando di tensione tutta questa velocità non ci serve. Infatti come abbiamo detto non è la tensione che fa danno ma è la corrente. quindi anche se nel circuito c'è una tensione superiore a quella permessa ma questa non fa danni, non c'è necessità di intervenire in tempi molto piccoli. Quindi è sufficiente il tempo di azionamento del relè che in pratica risulta essere proprio di 20 40 millisecondi. Poi ovviamente nulla vieta di utilizzare i due dispositivi contemporaneamente quindi magari di mettere ulteriormente in serie il circuito di sicurezza in corrente quindi nel caso in cui si usano simultaneamente se viene superata la tensione questo interverrà con un tempo molto molto lungo ma nel caso in cui quel superamento di tensione sta causando dei danni quindi sta passando una corrente molto elevata allora interverrà il circuito di sicurezza in corrente che fermerà il tutto in un tempo piccolissimo. Per quanto riguarda quello che vedremo nei prossimi video abbiamo l'analisi dello schematico e del layout del circuito sulla PCB e poi infine si effettuerà un test finale dove appunto andremo a verificare che in effetti il circuito funziona correttamente. Molto bene per questo video quindi è tutto, alla prossima!